Ciao a tutti ragazzi, Match Day! Stasera si gioca Juventus contro Sampdoria. Coppa Italia, quindi sappiamo bene che solitamente in queste partite c'è un grande turnover a tiri. Un ragazzo mi ha chiesto, guarda io seguo il calcio da poco e non capisco perché all'andata contro la Sampdoria abbiamo schierato la formazione praticamente titolare e invece in Coppa Italia leggo che giocano tutti quelli che in realtà in campionato non giocano mai. Beh, proprio perché durante la Coppa Italia solitamente si dà spazio alle seconde linee, ai giocatori che hanno avuto meno possibilità di emergere per dare loro la possibilità di inserire minuti nelle gambe e poi viene un po' considerata la formazione delle seconde linee almeno dalle squadre che non hanno l'obbligo, la voglia di vincere questa competizione a tutti i costi io in realtà per il primo anno degli ultimi dieci punto tanto sulla Coppa Italia ma tanto tanto nel senso che purtroppo Scudetto penso che sia andato ma vi lancerò una provocazione. Champions League immagino che sia difficile da vincere, la Supercoppa l'abbiamo persa, Murigno diceva una volta zero titoli e se non vincere la Coppa Italia probabilmente faremo zero titoli. Quindi se negli ultimi dieci anni abbiamo sempre vinto almeno un trofeo penso che sia giusto e doveroso dare il giusto riconoscimento alla Coppa Italia, la giusta importanza della Coppa Italia in una situazione nella quale per forza di cose dobbiamo ridimensionarci. Un mi piace a questo video in cui vi andrò a far vedere la mia probabile formazione ma è quella che immagino possa essere schierato questa sera. Invece per chi vuole sapere qualcosa di più concreto dell'informazione, dell'opinione di Luca Toselli potete scaricare OneFootball, il link per scaricare l'applicazione è qui sotto in descrizione oppure potete inquadrare il QR code in cui potrete inquadrare, appunto l'ho già detto, con la fotocamera al telefono e aprire direttamente lo store da cui scaricare l'applicazione. Occhio perché siamo sempre lì, mancano pochissimi giorni alla fine del mercato, siamo fermi immobili e io mi auguro a un certo punto che mi squilli OneFootball notifichi a cosa è successo, la Juventus ha acquistato qualcuno perché se no qui non andiamo da nessuna parte. Dicevo, provocazione Scudetto, anche osservando l'ultima giornata nella quale abbiamo recuperato due punti all'Inter, due punti all'Atalanta, tre punti al Milan, nella quale siamo a quota 41 col Milan a 48 e la prossima partita è Milan-Juventus, in una situazione magari anche, possiamo dire, non eccellente per il Milan. Ci credete in una possibile apertura clamorosa della lotta Scudetto a parte della Juve? Io sono paraculo, nel senso che vi ho detto che fino al 28 di febbraio la mia risposta sarà che la Juventus non ha possibilità di arrivare in zona Champions, a prescindere dai risultati, a prescindere dalle scalate. Perché è un secondo, se ci ragionate veramente un attimo. Il Milan ieri sera vincendo andava a 51 con l'Inter che aveva una partita a recuperare, certo, indubbiamente, ma si piazzava al primo posto in classifica. Dovessimo vincere, noi a Milano, andremo a 44, a meno 4 dal Milan, che ieri poteva essere capolista. Per questo non voglio più parlare della Corsa Champions, proprio perché basta una partita con un risultato clamoroso e uno scontro diretto per rimettere tutto in discussione. E dato che ne abbiamo giocate 22 e ne mancano 16, ci sono ancora tanti punti a disposizione, io ve la butto lì. Provocazione Scudetto, dovessimo vincere a Milano. Credereste addirittura allo Scudetto invece che al quarto posto? Io poi, ancora una volta, sono un paraculo, perché io lo so perfettamente che il calcio non si fa con i secoli, ma se siamo al quinto posto in classifica ci meritiamo queste situazioni di classifica al 100% e quelli che sono sopra di noi si meritano di essere sopra di noi al 100%, il campo parla chiaro, è l'unico giudice, bisogna accettare il risultato del campo e non della carta, non di quello che si sarebbe potuto fare. Però tre rimpianti ce li ho, quei famosi cinque punti, Udine, due punti di Udine, il punto di Sassuolo, sono quei famosi cinque punti lì, che torno a ribadire ancora una volta con insistenza, punti che non dovevamo buttare via ai due di Venezia. Situazioni dove tu sei già in vantaggio e sei riuscito comunque a cacciare via qualcosa di assurdo. Prestazioni, partite che sono state riaperte in maniera clamorosa dagli avversari, sempre sulla carta, inferiore a te. E quindi, con tutte le critiche giuste che sono state rivolte alla Juve in questi momenti, immaginando una vittoria a San Siro, quei cinque punti lì peserebbero ancora di più. Perché io sono il primo a dire che secondo me siamo lontani anni luce in questo momento da una squadra che può lottare per lo scudetto. Ma la linea è sottile, la linea è sottilissima. Perché poi in un campionato di 38 partite avvengono anche questi momenti folli, questi momenti caotici, questi momenti in cui lo Spezia ti batte il Milan e il Napoli, al San Paolo e a San Siro. E riapre tutti i discorsi che potevano essere definitivamente chiusi. Un'altra cosa che voglio sottolineare tante volte, sento è però adesso la Juve è tornata in corsa per il suicidio del Napoli, per il suicidio dell'Atalanta, per il suicidio del Milan. Sì, è verissimo. Ma perché queste squadre sono riuscite ad allungare sulla Juventus? Non stiamo parlando anche in questo caso di suicidio della Juventus contro altre squadre, appunto quelle che ho citato prima e ne potrei aggiungere altre, dove comunque doveva fare tre punti? Quindi è logico che suicidio di una, suicidio dell'altra, alla fine si vai a bilanciare tutto. Dato che parliamo di 38 giornate, una classifica 38 giornate. Poi ogni squadra e i suoi rimpianti. Perché i tifosi del Milan ieri sera il rimpianto ce l'hanno, se lo sono portato dietro, è ovvio, è naturale, funziona così in tutti i campi, in tutti i salotti, in tutte le case di tutti i tifosi, di tutti gli sportivi, gli appassionati di calcio in Italia. È normale che sia così. Accettare il risultato del campo e poi dentro di noi i nostri rimpianti. Era una piccola riflessione che volevo portare ai vostri occhi, dando un'occhiata alla classifica e al calendario. Proprio perché abbiamo il Milan e quindi maggior ragione stasera con la Sampdoria. Penso che sia doverosissimo schierare seconde linee per cercare di dare la possibilità ai titolari di essere più pronti, di essere più a disposizione nella miglior maniera possibile per la partita di domenica sera. Finalmente avremo anche un po' di riposo. Abbiamo dei giorni per prepararla bene quella partita. Perché a differenza dell'anno scorso, dove anche lì fino a gennaio e febbraio avevano partito ogni tre giorni, la grande differenza tra l'anno scorso e quest'anno è la continuità. La continuità di rendimento che riusciamo a dare. L'anno scorso non siamo mai arrivati a tre partite vinte di fila. Mai. In questo caso veniamo da otto risultati utili consecutivi. Quest'anno riusciamo anche a fare dei clean sheet, cosa che l'anno scorso ci veniva un po' più complicata. Quest'anno segniamo poco. Cosa che invece l'anno scorso facevamo con più costanza. Però l'anno scorso c'era Cristiano Ronaldo e quest'anno no. Ipotizzo una decina almeno di gol in più con Ronaldo in questa squadra. Però l'importante è che la Juventus ad oggi sia in scia. E poi dipende da lei. Perché se esce da San Siro con una sconfitta tutto questo discorso, tutti questi rimpianti, tutte queste proiezioni, la mia provocazione, tutto in fumo. Capite l'importanza di domenica San Siro? Allucinante. E invece questa sera con la Sampdoria dovrebbe essere una formazione, ve la metto adesso a schermo, molto rimaneggiata. Allora io immagino Perini in porta. Perché in Coppa Italia di solito gioca al secondo portiere, come in Supercoppa ha giocato Perini. Tra l'altro poi lì c'era un discorso legato a Scesni, al Green Pass. lasciamo stare. Immagino Perini in porta. Allegri in conferenza stampa pre-partita l'ha detto ho due cent... ho un centrale. Un centrale. Perché Chiellini... Chiellini è già concentrato alla testa al Milan. Lui deve concentrarsi lì perché, giustamente, Rugani viene da 200 partite di fila. Quarto centrale di difesa che di solito non vede mai il campo. Ora è l'unico disponibile. De Litte è squalificato, lo sappiamo. Era stato ammonito dopo la diffida in finale del Coppa Italia con l'Atalanta dell'anno scorso al Mappei Stadium. Bonucci è fuori e tornerà post Milan, post pausa nazionali. Rimane solo il buon Rugani che sarà affiancato dal buon De Winter. È ovvio che è una difesa inedita. È una difesa che non ti dà chissà quale sicurezza, però. È anche vero che giochiamo contro una Sampdoria che appena è esonerato dall'allenatore e che anche lei sarà nella più totale incertezza. Ricordiamo che stasera non ci sarà Allegri in panchina, bensì Landucci. Sugli esterni non dovrebbe giocare Alexandro. Dovrebbe giocare Luca Pellegrini. E questo da una parte mi fa piacere. Nel senso che sono contento di vedere Pellegrini che possa disputare quante più partite possibili con la Juve. Dall'altra parte penso non è che Alexandro è fuori, non gioca perché sarà titolare a Milano. Perché ho sempre un po' di paura nei confronti di Alexandro in questo momento. Poi magari gioca a Milano, fa una bella prestazione, fa gol, ce la risolvo e vinciamo con gol di Alexandro e dobbiamo dimenticarci di mangiarci tutto. Però è ovvio che sulla carta un po' di paura in affrontare una gara così delicata con Alexandro che nelle ultime due apparizioni col Napoli prendiamo gol, meno male per colpa sua, con l'Inter prendiamo gol, meno male per colpa sua. Mancano un po' di certezze in questo momento in Alexandro. A destra penso De Sciglio, meno che non si voglia puntare su Quadrado, ma penso che a Quadrado verrà data la possibilità di riposarsi un attimo, di rifiatare perché è un altro ragazzo, un ultra trentenne, un giocatore che viene costantemente messo in gioco, spremuto. Quindi è giusto che almeno in Coppa Italia possa non dir la sua. Poi occhio, occhio perché potremmo addirittura allungarla questa partita e sarebbe soltanto un danno per noi. Centrocampo quasi obbligato, Locatelli spero che non venga impiegato al pari di Meccenni che ha fatto duemila chilometri nelle ultime due partite per quanto riguarda Meccenni, l'abbiamo analizzato con l'analisi tattica. Locatelli è un altro che deve ripiatare, deve essere tenuto a riposo. Quindi Artur che si sul mercato, però magari anche qua si è ragionato sul fatto che se arriverà domenica, poi ci sarà la pausa nazionale e allora lì il mercato potrà essere gestito in un'altra maniera, nel senso che poi è una decina di giorni scarsa, scarsissima, per cercare di incastrare le ultime cose. Ne ho parlato nel video di ieri mattina. Artur dentro fuori, non è che possiamo continuare a... Artur a quanto pare è il vice di Locatelli, immagino che giocherà stasera con Bentancur e Rabiot. Poi magari, non lo so, al posto di uno tra Bentancur e Rabiot giocherà Bernardeschi largo a sinistra. Io oggi ve le metto giù così, penso che possano giocare questi tre, con centrocampo storto, con Rabiot a sinistra. Un bijou, una chicca, la partita perfetta che non vediamo l'ora di vedere. Immagino che sia così. Dove ci sarà spazio anche per Kulusevski, ancora una volta dopo la brutta prestazione di Udi, nel brutto primo tempo con sostituzione all'intervallo, davanti a Alvaro Morata non c'è Boise Ken. Non penso che verrà impiegato Paolo Dybala, un altro di quelli che meno lo utilizziamo meglio è, viste le condizioni fisiche precarie. E attenzione perché dovrebbe giocare anche Caio. Quindi Caio e De Winter, possibilità per entrambi. L'avevamo detto in settimana, erano venuti fuori alcuni spoiler, con indiscrezioni che riguardavano appunto questi due giocatori. Stasera dovremmo vedere finalmente Caio dal primo minuto. Sono sinceramente molto curioso perché, l'ho visto ancora poco ovviamente, infatti tutte le volte che la gente mi dice dovrebbero giocare i titolari Caio e Sule, non in questa specifica partita in generale, io chiedo ma quante volte li avete visti giocare per dire che devono giocare i titolari. Infatti io sono contento stasera di poterlo vedere, finalmente studiare meglio perché in quei pochi minuti che gli sono stati concessi di tanto in tanto mi aveva ben impressionato. Nella partita col Venesta dove entra al posto di Dybala e viene sostituito roba che lì non mi è piaciuta, invece non mi aveva dato tanta sicurezza eh, devo dirlo. Però stasera invece ha la sua possibilità. E questo è tutto, provocazione Scudetto, probabile formazione di Juventus Sampdoria, voglio sapere anche tutte le vostre opinioni, le vostre considerazioni anche in chiave mercato, fatemi sapere tutto nei commenti perché di carne al fuoco ve l'ho lanciata e ora sto a voi. Ciao ragazzi, a stasera. Grazie. 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 Grazie.